Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Dex Oggi continueremo a violare il pc di questa qui, di Miranda Speriamo di farcela una volta per tutte Che cazzo c'è qua? Questo casino Speriamo di farcela Ok Avvocato Ho capito, ho capito Queste volte non vanno Tipo È vero, sono bagatissimi Qua non si può neanche prendere della vita, niente proprio Me la sto giocando un pochino meglio Grazie a tutti Grazie a tutti Ottimo Grazie a tutti Allora, sto andando abbastanza bene, sta partita Messo è log out La vedo critica Buono, buono, buono No, per te adesso è un mazzo Ok Implicazione del caso Itcher Corp, la Maica Miranda Allora Allora Quindi la stanno un po' fregando Forse lei è scappata per questo Vabbè, io ho preso tutto quanto Direi che posso uscire Mi ha fatto un ottimo lavoro Perfetto No, no, ma no Mamma mia, veramente Si può mica, eh Ti spara una vista, proprio Allora Ok, ho preso un po' di PF Possono sempre servire Entriamo qua E andiamo avanti Per la nostra destinazione Ecco Corporation Qua potrebbe Esci qualcosa da scoprire Camilla, ecco Camilla Questa appunto Questa appunto ha la tua calligrafia Barbara riceve lettere minatorie Scritte dalla stessa mano Con due trattini sulle IT Io sono Dex E tu e io non abbiamo ancora finito Di cosa stai parlando Vabbè, ha cambiato solamente le corde vocali E che problema c'è? Si è fatto un impianto vocale Tutto qui Non che sto parlando Capisco che si è arrabbiata Ma queste minacce Tutti i giorni Forse ascoltavo cosa di diverso Che posto è questo? Che ci fai qui? Cioè quindi si può farne stare L'impianto vocale di Barbara Per diventare uguale Per caso ha inavvertitamente Ingoiato una farmacia Ma no Ma no Ma non mi dispiace No Questa è pazza Ma perché dovrei aiutarti No Non l'aiuto io Perchè dovevi aiutarti Scusa Tiennato voce Io non ti aiuto Scusa Se stai rubando tipo Stai rubando la voce di un'altra persona Non lo farei mai Bottino Non c'era niente Né bottino Aia Ma non mi copre un cazzo Non mi copre Qua non sarà facile Ho già visto Maglietta Allora Vediamo se dobbiamo fare qualcosa Sì ma poca roba Non ci aiuta sta cosa Ma davvero io non ho neanche una cavolo di arma? Ok Violazione serve Eco corp Eh non sarà facile Ma per niente proprio Ma questo casino Sì vabbè ma Un po' più difficile Eh la madonna Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Come farò a farcela Sì vabbè Possibile No vabbè 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 l'ha capito Eh non sarà facile Questa parte non è facile Forse sto andando troppo avanti di livello io Comento un'aria indietro Non sono ancora adatto A fare queste cose A parte che Non trovo una cavolo di arma Perché non trovo una cavolo di arma? Vabbè Prima o poi lo capirò Andiamo su da quella c'è Dai Non c'è un bel niente Il nulla cosmico Perfetto Entrandi qua Biofarmtech Ecco la biofarmtech Così Vediamo un po' Ecco magari c'è qualcosa circa la chiusura dell'istorante Eden Facciamo questa Mostrami un po' di soldi Ho tutto per i soldi È come nella vita reale Quanto vuoi 200 crate Diamogli Dunque Mi ha chiesto poco Mi ha chiesto Cioè Per vedere il lavoro è poco Ok Ok deve andare a casa sua In poche parole Eh vabbè Allora putatimelo prima Addio Che fatica Veramente Questa cos'è Scusate Boh Ma che cazzo Non l'ha Di posto Dove sto andando Su un tetto Vabbè Ma Perché Mi chiedo il perché Cosa serve Sta cosa qua Vabbè Finita la mappa Podicamente Allora Vediamo cosa Dovemmo fare Missioni Non andare ai moli Ma non ho ancora capito Dov'è Allora A fermare l'emoragia Qualcosa a fermare l'emoragia Qualcosa a fermare l'emoragia Ce l'abbiamo No Quindi Andiamo a barbara Barbara dov'è già Boh Vabbè Andiamo di qua Seguiamo la stalla Poi vediamo cosa ci troviamo davanti Bisogna che trovo sti molli Comunque perché veramente Mi da noia Non trovarli Mi da una noia Incredibile Allora All'Eden In teoria Ha scoperto qualcosa No È la solita cosa Che devo entrare Vabbè Andiamo qua Mi sa che C'è qui eh Aspetta Vediamo cosa c'è di qua No 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 Di qua di qua Vabbè Niente di importante Però posso scassinare la porta Ma Entriamo Scassinare la porta Ma no È la stessa porta Di prima E che è cambiato Scusate Non riesce a colpirmi No Ok Qua c'erano anche Dei tipo Robot Diciamo No Niente Non cerco niente Vabbè Questo non è il posto Per me Non me ne faccio niente Di star qua Ho già capito Niente da fare Forse dovrebbe essere qua La ragazza Ah ecco 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 Per andare Di finirci con lei Ok Va bene Posto A me ne abbiamo trovato qualche Qualche cosa in più Sulla questione In bassi fondi In bassi fondi Ecco Oh Sono riuscito ad aiutare Queste persone Sulla Per Sulla L'operazione Per Per Sulla L'operazione Giù Possiamo anche uscire Adesso Perfetto Questa è la missione Che abbiamo completato Ottimo Compriamo per se Rattivi Perché Mi sa che se vanno Con quella ragazza Lì Non vorrei sbagliarmi E dove vado Boh In un posto Che non serve Un cazzo Perfetto Qui Tutte cose Che sapevo già E questo Vende armi Vi lanciamo Una cosa Di interessante Perché Veramente Qua Vediamo Cosa Abbiamo Anticrate 266 Non c'è Niente Prendiamo Medikit L'unica È quella Che mi viene In mente Niente da fare Oh Non si riesce A A sparare In sto gioco A meno io Personalmente Non ce la faccio Non ho mai soldi Gli altri No I semi di cumino Mi servivano Non ho ancora Trovati Chissà Chissà dove Cavolo Ah Erano i molli Mi sa che mi aveva detto Ecco perché Andiamo a trovati General Store Vabbè Niente Dove andare a Fixershop Per Interrogare Finch Bank Non mi serve Dai andiamo subito a Fixershop Dai Facciamo prima Sempre se trovo La Il posto Ah ho trovato Poi è stato ferito E con cosa Per aiutarlo Ah Medici ce l'ho Perfetto Finch Ha dei problemi Abbastanza gravi Come raggiungo Arboroz Vabbè Devo andare Nelle fogne In qualche tunnel Vabbè mi ha molto Aiutato Questo ragazzo Almeno Qualcuno Ma dov'è lui Scusa Era Fixershop Ne avevano detto Ah Devo hackerarlo Oh mi segno Addio Addio sul serio Niente ragazzi Facciamo che per oggi è tutto Ci vediamo al prossimo video E vi ringrazio Ciao ragazzi